benvenuti al consueto appuntamento con economia in quark sono veronica de romani si sono in compagnia con alessandro de nicola e giampaolo galli che vi salutano cominciamo con ciò che succede fuori dal nostro paese e nello specifico in argentina con il nuovo presidente che insomma ci ci darà del materiale da commentare su questo non ci sono dubbi quindi lascerei subito la parola ad alessandro bene buongiorno a tutti allora il nuovo presidente argentino che naturalmente ha tirato la sua attenzione per il suo modo pittoresco di fare strappare i misteri dicendo a fuori era noai plata che sarebbe notengo di nero quindi ha un modo molto folcloristico di presentarsi c'è questi capelli a capelli che sono un bosco che lui dice che vengono pettinati dalla mano invisibile di adan smith dimostrando anche un certo senso dell'umorismo comunque il soprannome del del presidente milei che quindi un nostro paesano come tutti in argentina e e loco il matto e perché alcune delle sue dichiarazioni il fatto che ha quattro cani clonati cosa un po bizzarra però ha annunciato tramite il suo ministro delle finanze dell'economia caputo altro paesano le prime misure economiche e le prime misure economiche che sono state annunciate dal governo milei sono misure di una ortodossia altro che il washington consenso una volta c'era questo famoso washington consenso il presidente prima di tutto ha detto che taglierà la spesa pubblica di cinque punti percentuali rispetto al pil poi ha detto che non verranno rinnovati e per fare questo probabilmente bisogna fare qualche cosa quindi non verranno rinnovati i contratti a termine con la pubblica amministrazione che scadono entro l'anno non verranno rinnovate le spese discrezionali da parte dello stato centrale alle province che sono le regioni argentine perché ha detto il ministro dell'economia in genere questi fondi dimostrando un realismo incredibile in genere questi fondi sono dati alle varie regioni in cambio di favori politici non verranno iniziate le opere pubbliche che erano previste quindi verranno solo completate quelle che erano già in corso di attuazione un'altra cosa sanissima che dovremmo fare anche noi viene sospesa tutta la pubblicità delle entità statali voi tutti vedete sui giornali certe volte anche in televisione queste pubblicità di questi enti statali che molto spesso sono anche dei monopolisti o che non hanno niente da da pubblicizzare e viene sempre il sospetto che questa pubblicità venga fatta più per tenere buoni i media a fuera anche la pubblicità da parte di tutte le entità statali poi altra cosa importante è la svalutazione del peso che ha un cambio ufficiale quindi naturalmente dal suo punto di vista bisognerebbe dollarizzare l'argentina ma siccome da un po' di prova di realismo questa cosa se ne parlerà a magnana per adesso niente dollarizzazione e in attesa che ci sia un sistema di cambi flessibili però intanto il rapporto peso dollaro che era completamente irrealistico a 400 pesos per dollaro viene raddoppiato a 800 pesos vengono liberalizzate le importazioni per certe importazioni bisognava prima chiedere un permesso una licenza viene tolta questa licenza questo permesso e allo stesso tempo però per le fasce più povere della popolazione di argentina un terzo della popolazione vive sotto la fascia della povertà viene viene aumentato l'importo e il valore della carta alimentare come si chiama lì che sostanzialmente l'abbiamo avuto anche noi abbiamo anche noi in italia un buono per comprarsi degli alimenti da parte delle famiglie eh meno meno benestanti diciamo così e viene anche aumentata la detrazione eh per per figlio per figlio migliorenne quindi si cerca di agevolare le famiglie numerose o quelle che eh hanno scarsa disponibilità economica tutto questo eh insieme a una riduzione dei sussidi che che sono altissimi in Argentina Argentina la benzina costa il 40 per cento di quanto costa da noi eh quindi eh quindi tutto questo insieme alla riduzione dei 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 sussidi per energie e trasporti ha guadagnato al nuovo governo il plauso del fondo monetario internazionale che invece sembrava fosse terrorizzato da el loco che arrivasse che dollarizzasse abolisse subito la banca centrale che erano alcuni dei punti del programma che ha detto che è un programma realistico eh che protegge le fasce deboli ma che finalmente attacca eh gli gli sprechi la spesa pubblica e tutto quello che ha causato anche l'iperinflazione in Argentina peraltro il governo è molto realistico ha avvertito per questo genere di provvedimenti che noi stiamo prendendo è possibile che eh l'inflazione nel breve periodo aumenti quindi senza alcun trionfalismo e e quindi dopodiché eh questo programma completo eh verrà attuato vedremo come come verrà attuato però quello che i i due takeaways così finiamo che noi possiamo avere qui dall'Italia è che eh come a volte è capitato da noi come da noi è capitato che i governi di sinistra facessero le cose di destra ci voleva un po' un super populista per iniziare a fare delle cose da super rigoristi e la seconda cosa eh altrettanto importante è che non è detto che per compiacere l'elettorato bisogna per forza sempre promettere l'impossibile questo lasciamo perdere la banca centrale della dollarizzazione ma questo atteggiamento di tagliare tutto il tagliabile Miley lo ha promesso in campagna elettorale eh lo sta facendo con molta più moderazione come la forse è prevedibile ma lo sta facendo quindi non è una sioma che se vuoi vincere le elezioni devi per forza promettere mari e monti certe volte eh puoi anche essere realistico anzi promettere lacrime e sangue le elezioni le vinci lo stesso insomma l'austerità non è così impopolare almeno questa è la lezione che dobbiamo vedere può darsi che il messaggero può darsi che il messaggero così bizzarro aiuti a venderla bene però sicuramente forse è una questione di comunicazione la parola l'austerità che non va bene ok allora dall'austerità argentina passiamo al nostro paese dove eh l'austerità è una di quegli slogan ci siamo sentiti dire tanto tempo dobbiamo avere regole nuove perché quelle vecchie erano austere c'è una novità in più sul dibattito qui eh te GIP di dirci dove siamo oggi perché ci sarà un un importante ecco fin la prossima settimana che eh la nostra premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni per il Consiglio europeo che si terrà eh domani e dopo domani in questi giorni eh ha non ha escluso la possibilità di un veto italiano allora cosa significa cosa si rischia e cosa succederà secondo te? Sì diciamo quando uno ha speso moltissimo e quella grande spesa ti porta a un'inflazione che dicono essere del 140% all'anno ma qualcuno dice di essere che è molto di più che lo è al mese eh si è misurata correttamente a quel punto quando hai speso fino a quel punto al punto magari diventa popolare anche l'austerità per ora in Europa siamo nella fase in cui quasi tutti i governi o comunque molti governi importanti hanno promesso di spendere e questo è il vero problema che si trova in questo momento le cofin e in particolare nella contrapposizione fra l'Italia con un certo sostegno della della Francia contro i paesi nordici eh l'Italia eh ha programmato come tutti sanno una eh sostanziale stabilità del debito pubblico quindi se anche diciamo rientriamo nei canoni europei per quello che riguarda il deficit non rientriamo in nessuna regola né nuova né vecchia per quello che riguarda il debito pubblico e come abbiamo detto l'altra volta la motivazione di Giorgetti è colpa del super bonus vale a un certo punto perché lo sapevi anche tu che c'era il super bonus l'altra cosa lo sapevi prima e lo sapevi anche prima di fare la campagna elettorale come sapevi che aumentavano i tassi di interesse se uno confronta il bilancio 2024 che diciamo è scevro di sostegnere energia covid ovviamente sostegna energia con quello del 19 nel 24 il pil è molto più alto di quello del 19 già adesso il pil dell'Italia ma anche quello della Francia è più alto di quello del 19 ma sia in Italia che in Francia il deficit è più alto come mai perché ci sono gli interessi perché la popolazione invecchia per cui aumentano le spese per le pensioni perché tutti vogliono fare più investimenti si stanno facendo più investimenti in Italia quasi è arrivata al 3 per cento di investimenti mentre era arrivata a un minimo nella fine del decennio scorso del 1 1 e mezzo per cento si vuole fare e anche da parte di questo governo si vogliono fare le famose politiche industriali che vogliono dire trasferimenti correnti in conto capitale alle imprese quindi c'è un massiccio aumento della voglia di spendere c'è poi la promessa elettorale di ridurre le tasse il cuneo fiscale e tutto questo è stato già votato dal Parlamento sostanzialmente con la Nadef in Italia ma anche in Francia in Francia addirittura la Francia non rispetta nel 24 mantiene lo stesso debito del 23 e non rispetta i criteri né vecchi né nuovi per quello che riguarda neanche il deficit e a questo punto c'è da fare la quadratura del cerchio e la quadratura del cerchio è di questo tipo le regole rientreranno in vigore con una serie di correttivi che vogliono i tedeschi rispetto gli altri nordici rispetto alla proposta iniziale della commissione ma rientreranno in vigore a babbo morto per la prossima legge dal 26 o dal 27 o dalla prossima legislatura si vedrà naturalmente ci sarà poi tutto il tempo nel frattempo di dire che il debito pubblico continua ad aumentare perché il precedente governo ha ridotto le tasse ha ridotto ha tagliato il cuneo fiscale come faccio io che sono il nuovo governo adesso a tagliare ad azzerare quella cosa lì che è stata che ormai fa parte diciamo delle degli acquisiti da parte del degli italiani e così per gli altri paesi il compito adesso al di là del dei numeretti delle chiacchiere eccetera ma insomma la verità è che adesso il prossimo ecofilm deve trovare una formula per cui questa roba qui che le regole rientrano in vigore ma dopo non sia troppo ridicola questo è il vero tema perché si rischia veramente il ridicolo perché bisognava pensarci prima tutto questo avrebbe dovuto essere stato fatto molto molto prima e questo naturalmente sperando che la formula che verrà inventata sia tale da non allarmare troppo i mercati insomma si conta naturalmente sul fatto che i mercati siano abbastanza clementi questo mi pare lo stato vero della situa della 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 trattativa poi naturalmente possiamo discutere su un punto percentuale 0 5 eccetera ma questo è il vero punto secondo me diciamo come far sì che non sia troppo ridicolo il rinvio a pubbo morto e noi ovviamente seguiremo bene finiamo qui grazie e ci salutano Alessandro De Nicola e Gian Paolo Galli e ci vediamo la prossima settimana arrivederci